Buonasera a tutti amici telespettatori e amici e ragazzi di Walk Off e allora benvenuti in questo nuovo video per la top 11 e i consigli di fantacalcio per la ventesima giornata. E allora vi invito subito a lasciare like qui sotto perché ci saranno anche i nomi bonus come facciamo ogni weekend. Vi ricordo anche venerdì ci sarà la live per venirci a chiedere, a fare le domande per i vostri dubbi di formazione. Quindi mi raccomando non perdiamo altro tempo, aspettiamo appunto i vostri mi piace e le vostre iscrizioni se ancora non lo avete fatto e soprattutto se vi piacciono le live reaction e i consigli di fantacalcio. Io direi di partire subito con le notizie e soprattutto con i nomi inerenti proprio alla nostra fanta formazione top 11 di giornata e inizierei proprio con il primo. Come vedete qui accanto a me ci sono anche gli indici di schierabilità alti o bassi che siano sono appunto per consigliarvi i giocatori proprio da schierare nella vostra fanta squadra. E allora io direi di cominciare subito con il portiere e il primo nome è proprio Musso. Sì perché l'Atalanta ha una partita abbastanza abbordabile, semplice in casa contro la Sampdoria, gli abbiamo messo il 93% di IDS proprio perché pensiamo che la Dea possa o non subire reti o prenderne forse una. Poi magari la Sampdoria gliene fa tre o quattro però per questa giornata io il top lo metto con Juan Musso il portiere argentino della Dea. Si continua con i primi nomi e soprattutto con la difesa a tre quest'oggi e questa giornata giocheremo con il 3-4-3 con Danilo con l'87%. Perché Danilo? Perché la Juve secondo me si deve riprendere, la Juventus ha una partita non semplicissima per il Monza che sta giocando molto bene. Cioè per il Monza che è adesso quindi in casa la Juve deve per forza vincere, ha comunque l'opportunità di rifarsi dopo le prestazioni opache, dopo i punti di penalizzazione per il caso Plus Valenze. E quindi io la Juventus penso che possa reagire, possa reagire molto bene però come vi dicevo attenzione ai biancorossi di Palladino che stanno veramente ben figurando per essere una neopromossa. Però l'87% io mi affido alla difesa a Juventina e a Danilo che ultimamente sta giocando veramente bene e dalla seconda fascia in cui era all'inizio della stagione ora per me è quantomeno un semi top per il fantavalore medio e anche per la fantamedia che ha il difensore brasiliano. Andiamo avanti con il terzo nome ed è Di Lorenzo, partita non semplice per il Napoli contro la Roma, scontro diretto, però i partenopei hanno dalla loro diciamo un vantaggio consistente. Quindi anche la tranquillità di poter giocare un big match in casa contro i giallorossi che comunque stanno giocando molto bene e sulla destra di Lorenzo potrebbe essere messo in difficoltà. Però infatti l'84% è un po' basso di DS ma da questo punto di vista secondo me lui può fare anche qualche assist e può essere un uomo bonus. Magari non da gol ma appunto è uno che crossa, è uno che si porta avanti in fase offensiva, è molto pericoloso, batte anche qualche calcio di punizione e tendenzialmente va a battere i calci d'angolo anche corti. Quindi Di Lorenzo lo mettiamo. Altro nome Di Marco, diciamo il fattore D in difesa per questa ventesima giornata con l'interista che ha un buon IDS, l'88% secondo noi. Quindi è un'ala ragazzi, quella sinistra, la formazione di Simone Inzaghi si deve riprendere dopo la brutta sconfitta casalinga contro l'Empoli. Quindi io Di Marco lo vado a schierare ad occhi chiusi ed è uno che tendenzialmente avrà un valore di mercato nelle vostre aste di riparazione molto elevato se qualcuno non l'ha preso. Anche se non credo ci siano dei Di Marco svincolati nelle Fanta League. Se ci fossero sicuramente andrà alle stelle. Io ve l'avevo consigliato a inizio stagione, ma questo è un altro discorso. Andiamo al centrocampo e partiamo con un giocatore molto molto interessante, cioè Vlasic del Torino. La partita non è delle più semplici perché appunto la formazione Granata ha una gara abbastanza interessante proprio contro i Toscani, contro l'Empoli e fuori casa al Castellani 92% perché per me Vlasic può anche segnare, può timbrare per questa giornata. A proposito di Inter, vi ricordo che gioca contro la Cremonese perché non ve l'avevo detto, questo lo dico adesso. Comunque ritornando al centrocampo del Toro, è una partita da pareggio per me, il Torino non segna tantissimo fuori casa ma Vlasic può timbrarla e come vi ho detto può magari siglare un gollettino o può portarvi un bonus che vi potrebbe portare anche alla vittoria. Quindi consigliato da ammettere. Altro centrocampista interessante è Tonali con l'85%, l'IDS in questo caso è basso perché il Milan ha una partita non semplicissima contro il Sassuolo ma in casa e è per questo che ve lo consiglio. È un mediano come vi ho detto l'altra volta da inserimento, da tiro da fuori, quindi Tonali per me si può sbloccare, si deve sbloccare perché il Milan è in una fase di stagione molto complicata e magari può essere la partita della domenica per il centrocampista rosso. Poi Bandinelli 87% anche qui perché il centrocampista ha segnato anche, cioè non ha segnato scusate, ha contribuito però alla bella prestazione contro l'Inter della formazione azzurra di Zanetti. È un centrocampista low cost che potrete comprare anche nell'asta di riparazione insieme all'altro Baldanzi che appunto ha segnato domenica contro l'Inter ed è un centrocampista giovane così come appunto il suo collega di reparto. Quindi da questo punto di vista io ve lo consiglio, ve li consiglio entrambi anche da prendere nelle aste di riparazione, magari se riuscite a fare l'accoppiata meglio perché di solito o gioca uno o gioca l'altro. Come avete visto anche per la sfida contro i neroazzurri a San Siro si sono intercambiati o comunque tendenzialmente vanno a scambiarsi proprio di posizione. Mi sembra se non mi ricordo male Baldanzi entrò al posto di Cambiaghi ma comunque la sostanza non cambia quando gioca uno di solito non gioca l'altro o quando giocano insieme spesso e volentieri si danno una mano e possono anche fare una bella prestazione. In questo caso l'Empoli appunto ha una sfida con il Torino volendo se ce le avete entrambi le potete schierare. Poi passiamo ad un altro nome interessante, la nostra top 11 con il centrocampo si completa proprio con Milinkovic Savic. Ovviamente il sergente ha segnato nella sfida di ieri, andando a registrare il video nella sfida di ieri sera contro il Milan, ha aperto le danze proprio all'Olimpico contro i Rossoneri. E in più il giocatore serbo oltre ad essere un top di riparto come sempre piano piano si sta ritrovando dopo il mondiale. Lui è un diesel ragazzi, piano piano si ritroverà e anche la sua quotazione andrà alle stelle. Quindi se per caso, per sbaglio, vi danno o vi concedono il nome di Milinkovic Savic, prendetelo immediatamente perché tendenzialmente nelle seconde parti di campionato proprio lui è uno che va a goal o va a assist. Già 8 assist e 4 reti se non ricordo male, quindi il bottino è veramente devastante comunque per lui. Anche se ci aspettavamo o i fantallenatori si aspettavano di più, io vi consiglio vivamente di andarlo a schierare per questa giornata, anche se in casa contro la Fiorentina. Passiamo all'attacco perché qui ci sono tre nomi importantissimi e soprattutto con tanti, cioè con indici di schierabilità enormi, come vedete. 99% Victor Osiman, non ve lo sto neanche a dire, ve l'ho fatto schierare domenica scorsa e ve lo farò rischierare di nuovo anche in una sfida come quella casalinga dei Partenopei contro la Roma. è il top di reparto, è colui che sta portando il Napoli a questa vittoria del campionato, anche se nella prima parte, nelle prime 19 giornate. In questa prima di ritorno può comunque timbrare perché è rigorista, perché lì davanti è uno che fisicamente si fa avvalere, si fa sentire. È vero che avrà due difensori scomodi e due avversari scomodi proprio come Smalling e come possono essere i Bagnetz o Mancini, quindi guardiamo cosa farà. Però io non ci penso neanche minimamente ora a non metterlo nella nostra top 11. Passiamo agli ultimi due nomi e qui c'è una mezza sorpresina e cioè Rafa Leao, il portoghese del Milan. Come sapete appunto la squadra di Stefano Pioli domenica giocherà proprio contro il Sassuolo nel lunch match della sfida dell'ora di pranzo. Gioca in casa la formazione milanista, quindi assolutamente da schierare nell'uno contro uno. Può fare male, il Sassuolo tendenzialmente è una squadra che concede tanto e quindi io me la rischio e me la metto nella top 11, anche se come vi ho detto la formazione rossonera non sta passando un bel momento, ma è proprio lui il giocatore chiave che può fare e può portare bonus nelle vostre fantasquadre. Quindi Rafa Leao assolutamente da mettere per questa ventesima. Ultimo nome, ma non per questo meno importante, vi ricordo di lasciare like qui sotto e di guardare tutti i nomi bonus. E se ancora non vi siete iscritti fatelo per altre live reaction, cronache reaction e tutti i consigli di fantacalcio. E andiamo con l'ultimo nome. E c'è Lockman Ademola. Lockman, ragazzi, neanche ci pensiamo e neanche ve lo sto a ribadire più di tanto, perché lui è il secondo giocatore e il secondo marcatore del nostro campionato con 11 reti fatte a meno 2 proprio dal nigeriano del Napoli. E ragazzi, questo è fenomenale, fantamedia devastante. È un giocatore che avete pagato sicuramente poco rispetto a tutti i top di reparto o i semi top. È un giocatore che all'inizio dell'anno io vi avevo messo personalmente in prima fascia bassa e questo però è un dato di fatto che l'attaccante della Dea in casa ritrovato proprio da Giampiero Gasperini può fare la differenza ed è da mettere in una sfida che, come vi ho detto, contro la Sampdoria può portare tanti bonus. Quindi andatelo a schierare, andatelo a mettere. Se avete l'Atalanta, in questo caso tutta la Dea è da mettere per questa ventesima giornata, ma soprattutto gli attaccanti come possono essere Lockman, Oliund, Duvan Zapata sarà un problema ma se ce lo avete lo potete rischiare coprendovi. Però Lockman, ragazzi, col 95% di IDS è il più quotato insieme proprio a Victor Osiman e Leao. Detto questo, non perdo altro tempo, vi ringrazio per essere stati con noi perché faccio uscire poi il secondo video delle possibili sorprese. Se ancora non sei iscritto, iscriviti e soprattutto passa sul nostro sito www.walkoffsport.it che vi farò vedere brevemente proprio per farvi capire cosa facciamo noi. Eccolo qua, questo è il nostro sito con la sezione Fantacalcio dove potete andare proprio ad analizzare tutto, soprattutto l'analisi degli arbitri, la top 11 sorprese e consigliati di giornata, i pronostici e anche le classifiche della Serie A, Serie B, Lega Pro e tutto quello che concerne proprio World Cup Sport e il nostro canale che vi può interessare e soprattutto se siete appassionati siete sul canale giusto. Grazie infinite, vi faccio un bel cuore e soprattutto chi lascia like e chi si iscrive vince la ventesima giornata di Fantacalcio. Buon Fantacalcio a tutti e grazie per essere stati con noi dal vostro Edoardo, dal vostro World Cup e tutto. Alla prossima ragazzi.